Tutti voi avrete sentito parlare di flipped teaching o di flipped lesson, in che cosa consiste il flipping in didattica? Consiste nell'invertire i due momenti base di cui consta il lavoro didattico, ovvero la lezione e il compito a casa. Nella didattica tradizionale prima io faccio lezione in classe, cioè prima io trasmissivamente consento ai miei studenti di avere accesso alle informazioni, alle conoscenze, poi a casa attraverso i compiti chiedo ai miei studenti di studiare e di applicare quello che hanno imparato. Chi si occupa di flipped teaching osserva che in questo schema il momento in cui io insegnante servirei di più ai miei studenti è quello in cui finalmente tornano sui concetti, se li leggono, se li rileggono, capiscono di non aver capito ed individuano i problemi. Questo momento, il momento dell'apprendimento, il momento dell'incontro con il problema avviene di solito a casa e a casa io non ci sono. Quindi nel momento in cui a casa il mio studente avrebbe più bisogno di me, io purtroppo non ci sono. Come si fa per ottimizzare la competenza dell'insegnante e poterla sfruttare quando veramente serve? Il flipped teaching osserva che è sufficiente invertire i due momenti. Se io riuscissi a spostare a casa il momento di primo accesso all'informazione da parte dello studente, se in virtù di questo primo accesso favorissi da parte sua la problematizzazione e poi soltanto dopo a lezione in classe io fossi presente a risolvere i problemi che lo studente ha visto emergere, se io operassi in questo modo riuscirei ad esserci quando al mio studente servo di più.